Allora grazie innanzitutto di questo invito, il titolo è intrigante, credo però di essere la persona sbagliata a cui chiedere se lo smart working conviene, però ci proverò a praticare il massimo possibile del senso critico e dell'onestà intellettuale. Smart working è un fenomeno che è sicuramente in grande crescita, nel nostro paese per come è definito il momento di partenza è stato circa 11 anni fa, quando nel quadro della ricerca del Politecnico di Milano abbiamo fatto partire questo osservatorio e tra i vari concetti presenti anche a livello internazionale abbiamo scelto poi di dare una definizione di una serie di fenomeni di cambiamento dell'organizzazione del lavoro che avevamo in atto o incipienti dando la definizione di smart working che poi è stata anche recepita nel quadro normativo italiano, quadro normativo che è davvero tra i più moderni a livello internazionale. che cos'è quindi dal punto di vista numerico lo smart working, che cosa è stato perlomeno fino a febbraio 2000 e anche una rivoluzione che cosa è stato perlomeno fino a febbraio 2000 e anche una rivoluzione del lavoro che è stato perlomeno fino a febbraio 2000 e anche una rivoluzione non si sente? Sì, ora la sentiamo Grazie, grazie, segnalatemi se ci sono problemi dicevo che ha portato a una crescita anno su anno del 20% portando il totale degli smart worker in Italia a un numero considerevole di 570.000 parliamo di lavoratori dipendenti ovviamente che grazie anche all'accesso a un accordo di lavoro agile hanno la possibilità di lavorare per obiettivi potendo decidere con autonomia, almeno in parte, il luogo e l'orario di lavoro. Il fenomeno però fino appunto al febbraio 2019 si è prevalentemente concentrato nelle imprese di grandi dimensioni fatta in collaborazione ad autunno del 2019 vedete che nell'ambito delle grandi imprese possiamo dire che due grandi imprese su tre hanno all'orario dei modelli di smart working, hanno lanciato iniziative, hanno una policy o la stanno introducendo nell'ultimo anno l'aumento diciamo anche di la diffusione del fenomeno è stata soprattutto una diffusione interna alle grandi organizzazioni il numero di dipendenti coinvolti è passato mediamente da circa un terzo a circa la metà delle e questo è un campione, lavoriamo su un campione multisettoriale quindi questa è la media tra imprese nelle quali solo poche persone hanno a disposizione questo tipo di flessibilità ed altre invece in cui il modello di smart working è sostanzialmente aperto a tutti evidentemente questo dipende molto dai vincoli tecnici pensate alla differenza che ci può essere tra una società assicurativa o in generale di servizi e un'azienda manifatturiera o di costruzione questo le grandi imprese perché invece nel mondo delle piccole e medie imprese le barriere continuano a essere decisamente più elevate vedete nell'ultimo anno avevamo registrato un aumento che sebbene percentualmente considerevole nel numero delle piccole e medie imprese con iniziative strutturate che è passato dall'8 al 12% in realtà denotando ancora una forte resistenza significativo è addirittura questa percentuale era aumentata per quanto riguarda infine le pubbliche amministrazioni lo smart working è un fenomeno che è partito con notevole ritardo ma che è nettamente in crescita questo perché lo smart working è stato scelto nella riforma della pubblica amministrazione poi in una serie di successivi interventi come strumento per diffondere managerialità e orientamento alla prestazione nell'ultimo anno grazie anche a una serie di misure di accompagnamento il numero delle pubbliche amministrazioni che hanno introdotto in modo strutturato il modello dello smart working è passato dall'8 al 16% quindi è raddoppiato con anche un aumento delle aziende che stanno introducendo magari partendo da alcune sperimentazioni informali quindi un fenomeno sicuramente in ritardo ma che denotava nel 2019 sicuramente una crescita importante e poi è arrivato la pandemia e fin dai primissimi giorni della pandemia lo smart working è diventato è stato un po' scelto come strumento forse l'unico possibile per rispondere alla pandemia cercando di mettere assieme due esigenze molto diverse da una parte quello di separazione sociale e fisica per preservare la salute dall'altra evidentemente la necessità di mantenere una continuità nella erogazione dei servizi e da questo punto di vista ecco lo stesso governo dobbiamo riconoscere che ha avuto una grande proattività nei diversi decreti che si sono succeduti nei primi giorni di gestione dell'emergenza da subito lo smart working è stato individuato come modalità preferibile per l'organizzazione del lavoro quando non addirittura forzato sicuramente in tutto il mondo della pubblica amministrazione e si sono anche diffuse una serie di iniziative miste pubbliche e private per aiutare le piccole e medie imprese e in generale tutte le imprese che fossero ancora in difficoltà nell'estendere questo modello ad avere strumenti tecnologici, organizzativi, formazione e qui ne cito alcuni questi sono alcuni dei progetti nei quali noi abbiamo dato un contributo l'effetto complessivo qual è stato? è stato un effetto dirompente perché lo smart working il numero di smart worker è passato da una stima indicativa a febbraio del 2020 di circa 600.000 smart worker a un numero di lavoratori che ha sperimentato forme di lavoro anche da remoto che possiamo stimare attorno ai 7 milioni quindi più di un ordine di grandezza di crescita e in questo evidentemente dobbiamo ha giocato la estrema flessibilità dell'istituto anche dal punto di vista giuridico istituto che è stato anche ulteriormente facilitato con le misure di emergenza ricordo in particolare il DPCM del primo marzo che ha reso lo smart working di fatto attivabile anche senza una sottoscrizione esplicita dell'accordo individuale dal punto di vista giuridico lo smart working è un accordo personale individuale tra ogni individuo e la sua organizzazione che permette di prescindere da vincoli di orario e luogo di lavoro e di lavorare per obiettivi questo accordo va depositato va sottoscritto e depositato a fronte di una precedente formazione informazione del lavoratore ecco ovviamente dovendo avendo le persone già a casa tra virgolette e dovendo reagire in tempi brevi il DPCM ha consentito in deroga di questo regolamento di attivare lo smart working in modo molto flessibile anche senza la sottoscrizione dell'accordo che viene dato un po' per implicito evidentemente però questa questa facilitazione questo switch off potremmo dire improvviso ha anche portato a un certo grado di improvvisazione e ci dobbiamo chiedere se quello che tanti lavoratori hanno sperimentato in queste settimane in questi mesi è davvero è davvero smart working perché beh perché lo smart working che cos'è io qui do scusandomi della parziale autoreferenzialità do quella che è la definizione originale quella che fu data da noi circa 11 anni fa e beh lo smart working è un modello organizzativo è un modo di lavorare fondato sullo scambio lo scambio tra una autonomia che viene data al lavoratore una possibilità di scegliere dove e in che orari lavorare a fronte di una disponibilità a farsi misurare e a misurarsi in termini di risultati quindi possiamo dire che è uno scambio tra autonomia e responsabilizzazione se volete anche una filosofia manageriale che rompe anche un po' il muro tra lavoro autonomo e lavoro dipendente perché riconosce che se lo vuole in modo libero con una scelta che è anche reversibile ogni lavoratore può scegliere di lavorare come un professionista in parte almeno come un professionista autonomo pur rimanendo evidentemente tutti il contratto e gli obblighi tipici del lavoratore del lavoratore dipendente ecco ma dal punto di vista della scelta degli orari della scelta degli spazi si ha una maggiore flessibilità che poi evidentemente si traduce in una responsabilità di coordinarsi sugli obiettivi ebbene quello che è stato fatto in realtà è un po' diverso perché perché beh dalla definizione stessa che abbiamo dato questo è il framework che noi suggeriamo alle organizzazioni che vogliono avvicinarsi allo smart work un cambiamento importante sistemico che vuole riconoscere che ci sono dei principi organizzativi importanti da mettere in atto quindi l'uso della collaborazione della comunicazione aperta all'interno dell'azienda anche con le nuove tecnologie la responsabilizzazione dei dipendenti molto più della subordinazione la flessibilità che viene scambiata tra impresa e lavoratore nel senso che il lavoratore riceve flessibilità e dà flessibilità per raggiungere il massimo degli obiettivi e quindi anche la possibilità poi di valorizzare le condizioni e le caratteristiche specifiche di ciascuno questi sono principi che sono alla base del modello dello smart working che vengono attivati attraverso un processo di cambiamento che attiva delle nuove policy organizzative quindi regole nuove ad esempio sui vincoli di orario e luogo di lavoro ovviamente ricordiamoci che quando uno sottoscrive un accordo di smart working fa smart working sia che sia in sede ovviamente che di essere in altri luoghi l'uso di strumenti tecnologie digitali e quindi anche lo sviluppo di competenze e attitudini a lavorare in un mondo che è abilitato dal digitale il ripensamento anche dello spazio fisico non solo il layout degli uffici ma anche il modo in cui si usano gli spazi e quindi la loro colpazione anche nei comportamenti e sugli stili di leadership ecco in questo modo si riesce e anche dal punto di vista normativo il fatto di parlare di un accordo libero e reversibile tra più parti indica questo si cerca di lavorare a un nuovo equilibrio che dia contemporaneamente benefici alle persone e alla società nel suo insieme ebbene quello che abbiamo fatto che ha usato il concetto e anche durante l'emergenza nei fatti la possibilità di scegliere da parte dei lavoratori non c'era perché c'erano una serie di obblighi diciamo esogeni rispetto all'azienda che vincolavano il lavoratore a stare a casa l'altro elemento fondamentale è un modello organizzativo che crea un processo di empowerment responsabilizzazione sui risultati ma questo evidentemente richiede tempo una trasformazione della cultura non può essere fatto per decreto da un quello che abbiamo vissuto adesso questo smart working possiamo dire di emergenziale improvvisato in realtà è stata una soluzione fondamentale importantissima che ha consentito di limitare i danni di un evento davvero catastrofico che in realtà però è stata una modalità per mettere insieme come dicevamo distanziamento sociale e continuità di business tra l'altro non è la prima volta che questo succede perché anche in altri dito che lo abbiamo premiato è conosciuto e premiato l'ultimo convegno a fine impersoni Scusi professore la sentiamo attraggio del territorio la sentiamo attraggio le pubbliche amministrazioni Mi sentite ora? Chiedo se mi sentite. Un po' attratti. Mi spiace purtroppo. No, prego. Allora, dicevo, è stata una soluzione flessibile che è peraltro consentito questa reazione all'emergenza e non è come dicevo la prima volta perché, come è successo ad esempio a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, mettendosi insieme aziende e pubbliche amministrazioni possono ridefinire i tempi e i luoghi del lavoro e quindi consentire, come è successo a Genova, di rendere vivibile la città. Un bilancio di questa esperienza che, peraltro, pur essendo forzata, pur essendo improvvisata, ha avuto un grandissimo valore, oggi a tre mesi di distanza lo possiamo fare. Noi abbiamo censito centinaia di aziende e pubbliche amministrazioni e migliaia di lavoratori e possiamo oggi dare alcune evidenze. La prima evidenza è che la maggior parte dei lavoratori, delle persone, sono riuscite a svolgere da remoto tutte le attività o la grandissima parte, in modo a volte realmente sorprendente. I livelli di efficienza e di efficacia in molti casi sono stati non solo sufficienti, ma in qualche caso, non pochi, si è rilevato un aumento della produttività, un aumento dell'efficienza, scoprendo delle energie e mettendo a nudo, evidentemente, anche delle irrazionalità del modo in cui lavoravamo, veramente importante. Soprattutto è aumentato, anche in quelle organizzazioni che magari erano un po' impreparate, è aumentato il livello di autonomia e responsabilizzazione, quindi l'orientamento alla performance. Anche di per sé la socializzazione, soprattutto quella attraverso i team, quella delle riunioni, si è visto che nonostante il distanziamento, l'utilizzo di nuovi strumenti digitali ha consentito di reagire molto bene, anche da quel punto di vista. Ovviamente però, tenendo conto di questa emergenzialità del modo in cui è stato applicato lo smart working, ci sono una serie di importanti attenzioni da cui dobbiamo imparare, cioè ad esempio il fatto che se non c'è una sufficiente flessibilità, fiducia, autonomia lasciata al lavoratore, il lavoratore si trova in una condizione di stress, fa fatica a conciliare il lavoro con la vita professionale, cioè un po' debordare dei tempi e degli spazi del lavoro nella vita privata. Rischia di esserci un senso di isolamento dall'organizzazione nel suo insieme, quindi le persone hanno sete anche di ritrovare quei meccanismi che a volte sono legati anche un po' alla casualità dell'incontro in corridoio, della macchinetta del caffè, della pausa pranzo, tutte cose che vanno ripensate, riprogettate, rintrodotte appena possibile, e poi questa incertezza di quello che succederà nel futuro, che oggi molti lavoratori hanno, cioè che cosa si farà da settembre, man mano che i vincoli vengono progressivamente allentati, come si fa a mettere insieme quello che era il modo in cui prima lavoriamo e la maggior parte dei lavoratori non riconosce più il 90% dei lavoratori, non vuole più tornare a lavorare esattamente come prima, ma vuole che questa esperienza di questi mesi sia qualcosa di prezioso per ripensare un modo di lavorare nuovo quando non avremo più vincoli di separazione sociale. Quindi siamo in un momento importantissimo in cui tutte le aziende hanno una finestra di opportunità perché c'è molti tabù, molti pregiudizi sono stati abbattuti, le persone hanno imparato, hanno fatto un corso accelerato, quelli da cinque anni in tre mesi direi, sull'uso di strumenti, sul mettersi un po' in discussione e d'altra parte però bisogna tenere conto della peculiarità del momento che stiamo vivendo e riportare, partire dall'esperienza che abbiamo accumulato per riportare in sicurezza e in sostenibilità ciò che stiamo vivendo. Come andrebbe sviluppato un buon progetto di smart working oggi nel 2020 dopo tre mesi che hanno realmente cambiato la storia dei modi di lavorare? Beh, bisogna sicuramente partire da fare un'analisi di come le persone hanno lavorato, di quali sono state le nuove competenze, le nuove modalità di lavoro che hanno sperimentato, di cosa è andato bene, di cosa invece ha ingenerato stress e da lì bisogna sviluppare una visione di come anche editoriale, anche manageriale, di che organizzazione si vuole per il futuro, di come si vuole riconoscere questo passaggio e progettare un modo di lavorare nuovo, che prenda evidentemente il meglio di quello che si è imparato, ma anche riutilizzi evidentemente tutto il beneficio di una interazione fisica e spaziale. E poi evidentemente pensare a un progetto partendo anche da questa fase 2 che è preziosa. Perché è preziosa? Perché il persistere di una serie di vincoli dà la possibilità e la spinta a sperimentare ancora dei modi di lavorare nuovi, che mettano in sicurezza ciò che oggi siamo partiti a fare un po' in modo improvvisato e che cominci a ripensare, a sviluppare delle pratiche che possano essere utilizzate in futuro quando potremo liberamente scegliere. Infine c'è da valorizzare questo cambiamento fatto anche in termini di attrattività dell'azienda, capacità di attirare nuovi talenti, capacità anche di costruire un employer branding e anche un customer branding, cioè l'impresa, soprattutto quella piccola, grazie a questa opportunità può e deve cercare di presentarsi sia al mercato del lavoro che al mercato dei clienti in modo migliore. Ecco, il punto fondamentale comunque è capire in profondità quali sono le motivazioni che le imprese che hanno già sperimentato lo smart working avevano nel partire, quali sono le motivazioni delle persone quando accedono a un accordo di questo tipo e quindi cercare di riscoprire le vere radici di questa opportunità. E allora alcuni elementi soprattutto legati al mondo delle piccole e medie imprese. Perché le piccole e medie imprese prima facevano smart working? Rispetto soprattutto alle grandi imprese, un obiettivo era sicuramente quello di essere più attrattive e di far star meglio i lavoratori, ma gli altri erano sicuramente legati al miglioramento dei processi, all'aumento della produttività, alla capacità di sviluppare un maggiore engagement. Perché invece tante aziende ritenevano essere disinteressate? Perché in qualche modo c'erano dei pregiudizi legati al pensare che non fosse applicabile, cioè che le attività tipiche dell'impresa non fossero realizzabili con un mix di presenza in ufficio e lavoro da remoto. Invece evidentemente questi pregiudizi, questi tabù, sono stati nei fatti, in molti casi infranti, dall'esperienza che abbiamo avuto in questi tre mesi. Così come i capi, che spesso erano quelli più resistenti, manager e imprenditori, hanno capito quelli che sono i benefici che si possono ottenere. E quindi oggi bisogna capitalizzare non soltanto l'esperienza dei tre mesi che ciascuno ha fatto con i propri lavoratori, ma anche andare a riscoprire quello che è il percorso che è stato fatto dalle imprese che per più anni hanno sperimentato un percorso di cambiamento organizzativo legato allo smart working. Io volevo ricordarne qualcuna, però piuttosto che utilizzare esempi che spesso facciamo di grandi imprese che noi stessi abbiamo accompagnato, mi piaceva raccontare un paio di casi che abbiamo anche riconosciuto, studiato, di imprese piccole, molto anche locali, che però hanno saputo interpretare in modo molto intelligente questa opportunità. La prima è un'impresa veneta, il Tacchificio del Brenta, è una di quelle realtà incredibili italiane perché è estremamente di nicchia, fa tacchi per scarpe di alta moda, scarpe femminili, i famosi tacchi 12 eccetera, ed è un'azienda che esporta in tutto il mondo e quindi nonostante le sue piccole dimensioni ha un ottimo livello di innovatività, di posizionamento. E' un'azienda da 47 dipendenti. Ebbene, che cosa hanno fatto? Utilizzando al meglio anche la flessibilità nell'organizzazione del lavoro e l'introduzione di nuove metodologie anche nei processi più distintivi, quelli creativi ad esempio nello sviluppo delle nuove collezioni, beh questa azienda è riuscita a ottimizzare quelli che sono i propri processi, a rendersi molto più attrattiva per i lavoratori e anche per i clienti perché ha ripensato il modo di lavorare e anche di rapportarsi non soltanto internamente ma anche di lavorare assieme a clienti che molto spesso sono clienti internazionali. E ha avuto dei benefici tangibili anche economici davvero importantissimi. Questa è un'altra azienda, è un'azienda manifatturiera un pochino più grande però è un'azienda in cui c'è tanta manifattura, sono 190 dipendenti, fanno strumenti e soluzioni per l'ingegneria dei processi industriali. Anche qui cosa hanno fatto? Hanno creato un modello organizzativo di flessibilità nella gestione degli orari, hanno lavorato sugli stili di leadership introducendo anche una cultura della fiducia e della trasparenza e in questo modo sono riusciti a migliorare moltissimo il clima aziendale e la produttività e rimuovendo anche tutta una serie di vincoli e di difficoltà che hanno permesso di, come dire, hanno limitato il turnover ad esempio, hanno migliorato l'engagement delle persone, la produttività e quindi questo è stato un importante diciamo rilancio della cultura e della competitività dell'azienda. In generale che cosa possiamo imparare dal dieci anni di lavoro con le imprese che in qualunque dimensione, in qualunque anche settore hanno lavorato sullo smart working e cosa possiamo anche imparare da questi ultimi tre mesi di esperienza? Beh, che ci sono una serie di pregiudizi che sono dei falsi miti, ad esempio lo smart working fatto bene non è qualcosa di cui le persone si approfittano, quindi anzi il fatto di andare a sviluppare una cultura del lavoro orientato ai risultati promuove sicuramente un impegno e la meritocrazia, fatto bene non genera senso di isolamento, si può fare qualunque sia la condizione della persona non è lavorare da casa, si può innanzitutto lo smart working si fa in ufficio e poi si può fare in tanti altri luoghi e i lavori, quasi tutti i lavori oggi hanno una componente che è sufficientemente flessibile o lo sta diventando anche grazie alle nuove tecnologie che può, per cui si può introdurre questa cultura dell'autonomia e della responsabilizzazione quando non si può ad esempio nella manifattura, quando non si può lavorare sull'autonomia del singolo in termini di spazi di lavoro, si può lavorare sull'orario si può lavorare sulla responsabilizzazione del team, ma in ogni caso lo smart working è qualcosa che lavorando molto sul senso di responsabilità delle persone permette effettivamente di creare un gioco a somma positiva. Detto questo ci sono difficoltà reali, la prima difficoltà è che un cambiamento sistemico, bisogna guardare alla tecnologia, all'organizzazione del lavoro, al layout degli spazi, al modello di business, si richiede anche una maturità, una disciplina personale nell'auto organizzarsi e nel responsabilizzarsi è molto importante, questo non si improvvisa. È un challenge importante nel modo di fare i manager perché vuol dire diventare più bravi nel definire le attività, identificare le attività, definire gli indicatori, dare obiettivi, misurare i risultati, dare feedback, tutte cose che sono importanti a prescindere dallo smart working, ma che lo smart working in qualche modo rende ancora più visibili e importanti e quindi un grande sforzo poi di pianificazione e coordinamento a fronte di benefici che sono veramente per tutti, perché sono benefici ovviamente per i lavoratori, ma sono obiettivi importantissimi per le aziende, noi in dieci anni abbiamo continuamente monitorato in tantissime imprese i benefici anche quelli monetari e in particolare abbiamo rilevato gli incrementi di produttività, questi sono dati riferiti a un campione importante di aziende in cui la media del incremento di produttività è stata del 15%, si garantisce anche una business continuity, l'abbiamo detto, si riduce il tasso di assenteismo, si aumenta l'attrattività, si spende molto meno dal punto di vista della gestione degli spazi e infine abbiamo anche capito come questo gioco a somma positiva tra lavoratori e impresa porti poi anche a un notevole beneficio per tutta la collettività e ancora una volta lo abbiamo imparato in questi ultimi tre mesi. Chiudo dicendo che da qui in poi la storia del modo di lavorare nelle imprese si dovrà distinguere in un pre-covid e post-covid, non si può ipotizzare che dopo la pandemia quando cesserà l'emergenza sanitaria si possa tornare indietro come se nulla fosse perché in questi mesi le persone sono cambiate, hanno sviluppato competenze ma anche attese e aspettative, attitudini di cui bisogna tenere conto. Sono cambiati i clienti che oggi si aspettano anche un modo di interagire nuovo e fatemi dire, sono cambiate le condizioni della concorrenza, quindi coloro che non saranno in grado di ripensare il proprio posizionamento competitivo troveranno qualcuno che lo sta ripensando per loro e quindi è una grande opportunità ad esempio di rinclusione nei grandi circuiti globali delle imprese del nostro paese, soprattutto quelle di piccole e medie imprese, ma può essere anche, se non la si coglie come una vera opportunità, può essere anche una minaccia perché evidentemente altre imprese, altri territori, cercheranno di sfruttare al massimo questo cambiamento epocale a cui stiamo assistendo. Bene, vi ringrazio e mi scuso anche per l'instabilità, come vi dicevo abbiamo avuto un problema di rete nel nostro ufficio e vi comunque risottolineo che potete utilizzare, potete raggiungerci, potete mandarci anche domande dopo di questo evento usando anche la mia mail mariano.corso at polimi.it. Grazie davvero dell'ospitalità.